Convocata ufficialmente come passaggio formale previsto nell'approvazione del bilancio della provincia di Salerno, l'Assemblea dei Sindaci, che si è riunita questa mattina a Palazzo Sant'Agostino dopo le 11, ha trovato spazio anche per soffermarsi sulla scelta dei nomi da candidare alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre, soprattutto in casa della maggioranza e di quel PD che secondo il segretario nazionale Enrico Letta deve scegliere i candidati riconoscibili facilmente sul territorio a causa del poco tempo a disposizione per la campagna elettorale. Scontata la presenza nel collegio proporzionale di Salerno per Piero De Luca e la riconferma del nome di Eva Vossa, si lavora per completare le liste che dovranno essere chiuse per Ferragosto. A conferma il segretario provinciale del Partito Democratico, Enzo Luciano, ha incontrato i sindaci di centro-sinistra in una riunione che ha preceduto l'Assemblea ufficiale nella sala del Consiglio Provinciale a Palazzo Sant'Agostino. Lunedì alle 17.30 ci sarà una direzione provinciale del PD dalla quale dovranno uscire i nomi. Le indiscrezioni della vigilia puntano su Gianfranco Valeante, sindaco di Baronissi, al suo secondo mandato e di recente eletto al coordinamento provinciale del Lanci. A chi chiede indiscrezioni, Mimmo Volpe, sindaco di Bellizzi, ricorda di essere uscente, mentre il segretario provinciale, Enzo Luciano, non nega un possibile interessamento nei consiglieri regionali. Nel collegio che unisce Costiera Malfitane e Agronocerino Sarnese, nega di essere interessato ad una possibile candidatura il sindaco di Minori, Andrea Reale, ed anche il segretario del PD ragiona concentrando l'attenzione più su un candidato forte nell'Agronocerino Sarnese per quantità di popolazione, dove un nome spendibile potrebbe essere quello dell'attuale presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Ma le ipotesi più fantasiose non escludono anche Michele Sarnese, sindaco di San Valentino Torio, al suo secondo mandato già da presidente della provincia. Per candidarsi dovrebbe dimettersi entro oggi al netto del fatto che potrebbe ritinare la disponibilità e le dimissioni entro 20 giorni. A chi glielo chiede però, Sarnese sorride e preferisce concentrarsi sugli argomenti all'ordine del giorno, il bilancio ma anche il richiamo dell'ANAC su una serie di appalti dell'ente provinciale. Approviamo il bilancio 2022-2024 in tempo utile. Abbiamo già fatto in Consiglio provinciale lunedì, oggi si vuole il parere dei sindaci come per legge e poi dopo riconvochiamo il Consiglio per le 13 per prendere atto del parere dei sindaci. Quindi è una procedura. Ovviamente è l'occasione per interloquire con i sindaci del territorio, spiegare a loro appunto come è impostato il bilancio della provincia, con riferimento ai servizi importanti che offriamo, quindi strade, scuole, ambiente, territorio, urbanistica, musei, biblioteche, tutto quello che possiamo fare utilizzando fondi nazionali, fondi regionali, fondi propri del bilancio della provincia. E quindi, ripeto, è anche l'occasione per spiegare a loro i nostri piani di manutenzione sulle scuole, sulle strade, quello che stiamo facendo sulla depurazione delle acque. Quindi approfittiamo che essi siano qui, come dire, per esprimere questo parere, per fare un po' il punto della situazione sull'attività dell'amministrazione provinciale. A proposito dell'attività dell'amministrazione provinciale, come commenta il richiamo dell'ANAC per quanto riguarda una serie di appalti che sono stati gestiti proprio da questo ente? Ma, voglio dire, io non ho ancora letto il provvedimento che, diciamo, è arrivato appena ieri. Diciamo, sono una serie di richiami, una serie di considerazioni. Ho già mandato al segretario della provincia di riunire i dirigenti e di riscontrare queste note, diciamo, con punto per punto, con chiarezza. Siamo tranquillissimi, siamo davvero sereni. Io in particolare, come sapete, sono degli atti gestionali nei quali la politica entra fino a un certo punto. O meglio, non entra proprio, ma siamo sicuri che i nostri dirigenti abbiano, come sempre, fatto tutto quello che potevano, ovviamente rispettando leggi e regolamenti. Sapete che in questi anni sono subentrati dei decreti di semplificazione delle procedure, no? Durante il periodo del Covid, della pandemia, proprio per cercare di velocizzare le procedure. Dunque, io mi auguro che l'ANAC abbia tenuto conto anche di tutto questo, perché le semplificazioni amministrative sono proprio rivolte a queste cose, cioè evitare che si invitano tante ditte, quindi invitarne di meno per un procedimento più snello. Io sono sicuro, diciamo, che non ci siano violazioni di legge, soprattutto, e che i nostri dirigenti sapranno subito, diciamo, riscontrare, chiarire ogni cosa. Grazie a tutti.